Una produzione di www.sullealidellinfinito.it, sito di Garbin Luca, pagina web che si occupa di seguenti tematiche. Spiritualità, medianità gratuita, canalizzazione, metafonia e contattistica, video tutorial, letture consigliate, convegni, relazioni e molto altro. Per maggiori informazioni scrivere a Luca Garbin al seguente indirizzo mail. Informazioni at sullealidellinfinito.it Telefono 331 283 4817 In questa registrazione fornita da un'amica, un'anima dall'aldilà ci spiega brevemente nel momento del trapasso cosa accade, che cosa vede. Nel momento del trapasso l'anima cosa vede? Nel momento del trapasso l'anima cosa vede? L'universo La croce in festa si combina e sprazzi di luce Tutto è più bello qua, su nel cielo Carezze ancestrali Le rose ti aspettano qua Le rose ti aspettano qua E i vostri amici Vive in pace, Valeria Vive in pace, Valeria Vive in pace, Valeria Grazie.